nastro auto grippante riciclabile è un nastro elastico in materiale sintetico che si auto aggancia su se stesso non lascia tracce sull'arma di nessun tipo in quanto potete partire da qualunque parte lo vogliate si avvolge comodamente e delicatissimo leggero molto maneggevole rapidissimo poi coprirete le parti che decidete voi questo viene tagliato ovunque lo vogliate è antiriflesso un colore molto opaco e si può ritogliere semplicemente riavvolgendolo in maniera delicata ripercorrendo la stessa strada fatta in precedenza lo riavvolgete per poi poterlo riutilizzare più e più volte fino alla sua totale inerzia ossia quando non gripperà più poiché è stato riavvolto decine di volte o perché semplicemente l'avete sporcato troppo come è possibile notare la superficie grippata rimane perfettamente pulita senza tracce di nessun tipo di colla